foodglory.com, trovate il link nella descrizione fateci un salto e buona visione vi invito a lasciare un bel pollo in su, subitissimo mi raccomando, siamo pronti per andare a iniziare questa sfida e andare a battere gli ultimi due avversari, speriamo ci siamo ragazzi, vediamo il nostro avversario che squadra ci pone, è la miseria miseriaccia, ammazza che bomba a mano che c'ha questo raga, con Griezmann 90, Paneca, Del Piero Michi Italian Marcello Toti, Ramos Toti, Godin porca vacca che bella squadra dai Simon C forse è coraggio forse è coraggio ragazzi non voglio sentire scuse in questa partita ecco, dai Neymar corri come il vento Neymar corri come il vento Neymar e qua per Messi all'Io del Messi un gol di testa signori da parte di Nero del Messi fa uno zompo incredibile proprio forza così regà al quinto minuto continuiamo con questa aggressività che c'è via in corpo bello per Cristiano e Neymar e guardaci Pippo i sandali stiamo coprendo da Dio stiamo coprendo troppo bene forza per Neymar ancora Neymar ancora Neymar se ne va solo soletto signori ancora Neymar solo soletto sempre lui sempre lui per Ronaldo porca miseria la prende Messi detesta ma la prende Ronaldo va Lionel ancora Messi ancora Messi ancora Messi mamma mia ragazzi in questo primo tempo noi abbiamo fatto fare un tiro madonna mia se stiamo giocando bene madonna mia se stiamo giocando bene tira niente non ha tirato bello dai Deleufeu dai Deleufeu ci sta ma che cazzo di ghella un altro palo raga attraverso e palo guardate la miseria che sfiga dai Ronny dai oh guarda la parata raga non so più che cazzo devo tirare io qui dai Ronny dai Ronny oh raga lo sto uccidendo non è che dici così lo sto proprio massacrando raga dai facciamo un cambio mettiamo Bale che abbiamo anche Garrett Bale no il resto lasciamo così e dai gliela ha messi su su ed ma porca raga non c'ho parole raga non è possibile non è possibile ragazzi ve lo giuro non è non è una cosa eh baffanculo me le para tutte avrò fatto 40 tiri questo ne ha fatti due non ci credo gli ha dato il rigore al novantesimo non ci credo gioco di merda non è possibile da centrale ragazzo non è possibile che gioco di merda dai raga ora mi faccio delle statistiche ma da vaffanculo fifa con sta partita si è visto ovviamente lo script e lo schifo che può fare fifa quando vuole raga in questa partita l'abbiamo visto tutto 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 in questa partita l'abbiamo visto raga il problema è che se fate rigori perdo perché io non sono capace i rigori è quello il problema ma questo non si merita questa non è una partita da meritare i rigori questo imbecille cioè è quello il problema raga questo non si merita sta partita ma neanche da arrivare ai supplementari proprio dai Neymar dai dai Ronny oh mortacci pezzo di merda pezzo di merda dai dai cosi non c'entriamo i rigori non te lo meriti non te lo meriti dai cazzo ma guarda come devo soffrire oh bello così bella punizione vaffanculo va ringrazio addio è seriato fino a qui sei arrivato ringrazio addio è seriato fino a qua dai su no regà vi faccio due pali traverse parate che ti confermamo se e questo putacasa da americori mi batteva pure ma stiamo fuori cioè raga ve lo dico se perdevo sta partita madonna mia penso che spaccavo mezzo mondo adesso mi sento più tranquillo anche se è la finale ma veramente la FIFA tu sei bruciata proprio signori finalissima ultimo avversario vediamo un attimino che squadra ci pone Mizzica Mizzica è l'allero una bella Premier League con Ibrahimovic Imotm Hazard William Ozil Pogba molto buona signori facciamo attenzione mi sento un po' più sollevato dopo aver vinto quella partita di prima fammi aprire la finestra che sto morendo e gallo forza 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 raga questa pure sarà una bella partita una bella finale allora posso solo dirvi che già da come si muove questo ragazzo è molto ma molto bravo 1 a 0 non è successo nulla raga non è successo nulla ha fatto un bel gol ci sta dai dai ronny dai ronny guarda che bella parata che mi ha fatto bella 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 oddio mio oddio mio se entrava raga se entrava Neymar era non lo so best goal in da mataffaga proprio ma chi sei matto a farmi una cosa del genere certo se entrava raga se entrava mi sentivo male proprio Neymar mamma mia Neymar signori mamma mia Neymar gli mette il pallone proprio tiè segnala Ronaldo fate sto golletto ma fa culo proprio buono buono oddio signori che golletto di Giocheregno che golletto più che altro di Ronaldo mamma mia che ben di dio è uno skill goal questo porca miseria gol da Rabona signori eh si se lo siamo completamente perso non ha fatto la scivolata Ramos gli avevo detto di scivolare non l'ha fatta la scivolata non avevo preso il pallone che l'avevo preso due pari non è successo nulla comunque è gradissimo quello di Ronaldo bello da che l'abbiamo visto da che l'abbiamo visto da che l'abbiamo visto da che l'abbiamo visto cazzarola che sfiga occhio è partito bello grande rulli ma che parata mi ha fatto raga comunque è il momento di mettere gare bail per forza lo mette bail adesso no no cavolo guarda com'è filtrata 3 a 2 signori partita difficile partita difficile ma mi piace meno male che è difficile se no sarebbe una finale raga peccato peccato ragazzi questo appena entrato già mi ha segnato Griezmann vabbè portiere ne è io abbiamo portiere chissà che cosa però fino a Montparte Miracle mi aveva fatti dai mamma mia Cristiano accorcia le distanze signori grande tiro a giro di Cristiano Ronaldo accorcia queste distanze Cristiano dai così raga dai 4 a 3 questo che schema sta usando ragazzi mi ha tenuto tutta la difesa proprio dietro è attaccata la porta ha usato qualche pressing o qualcosa raga perché la mia difesa era completamente nulla guarda dove stavano guarda era vuoto proprio cioè c'è avuto un buco incredibile no io ormai la mia difesa ragazzi è esplosa è esplosa la mia difesa signori esplosa totalmente io se no se non guarda guarda comunque se io non prendo le traverse non c'è cazzo da fare se non prendo pali o traverse non c'è niente da fare vabbè 7 a 4 signori ormai è andata peccato 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 ormai sono golle sono golle simbolici ragazzi 7 a 5 questo si poteva tranquillamente batte finisce la partita molto molto bella ma questo si poteva battere tranquillamente proprio tranquillamente raga ci ha detto male ci ha detto veramente male comunque la partita vedete sta comunque molto combattuta avrei fatto qualcosina più ma ci sta ragazzi ci sta veramente è una bella finale sono contentissimo lo stesso quindi ci vediamo i nostri pacchettozzi vediamo un po' pacchetto orari pacchetto orari questi mi vengono ragazzi perché forse dopo faccio una live ma voi questo video già l'avete visto dopo io ho fatto la live signori questo video è giunto a termine ovviamente spero vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollice in su commentate condividete passate la pagina facebook instagram tutto in descrizione trovate i link che vi possono servire mi raccomando seguitemi sia su facebook che su instagram per rimanere aggiornati di tutto quanto e vedere tutte le mie foto a cazzoni che faccio al prossimo appuntamento un bel like e mi raccomando ciao signori iscriviti al canale